Vigina dei tiri, tu non sei come gli altri bambini che non pensano a studiare, si diventano solo a fare colessare. Tu sei una bambina speciale, perché vieni da un fratello speciale, alberi con gli estri, tu sei una grande, tu sei una grancia, resta grande, ma secondo me ce ne saranno altre come te e quindi ti auguro buon Natale e buon anno.